Ed è davvero tempo Un tempo d'estate, 10.45, 23 secondi proprio in questo istante. Buongiorno a tutti, bentrovati insieme. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 11.20 con questo spazio che vi fa compagnia, spero una piacevole compagnia, tutti i giorni appunto da lunedì al sabato. Siamo qui per raccontarvi un po' di notizie, andremo a riprendere delle interviste, testimonianze tratte dal nostro archivio, ma soprattutto ci collegheremo con la chiesa di San Pio per ascoltare la voce dei pellegrini. I pellegriraggi stanno riprendendo, i pellegrini stanno tornando a San Giovanni Lotondo, anche se non hanno appunto mai smesso di visitare i luoghi che hanno visto la presenza del santo di Pietrelcina, anche appunto se è in numero limitato. E quindi proprio per questo vogliamo collegarci subito con il collega Leonardo Fania, che si trova proprio all'interno della chiesa di San Pio, dove, lo ricordo, alle 11.30 torneremo a collegarci per pregare insieme con la Santa Messa. Eccoci, ciao Leonardo, buongiorno, benvenuto. Ciao Paola, buongiorno, benvenuta a te, ai nostri amici telespettatori, dunque anche in questo martedì 22 giugno, una giornata piuttosto tranquilla qui a San Giovanni Rotondo, sarà anche per questo caldo davvero importante che ci sta facendo compagnia in questi giorni, pochissimi a dire la verità, non abbiamo ancora tempo emotivo per lamentarci, magari lo faremo più in là, però comunque davvero il caldo qui picchia duro e si fa sentire. A conferma di quello che tu dicevi della ripresa dei pellegrinaggi, questa mattina abbiamo una gradita sorpresa, tra pochi minuti arriveranno qui in diretta per noi un gruppo di pellegrini da Vicenza, che grazie alla segnalazione dell'ufficio accoglienza pellegrinaggi, con cui siamo in stretto contatto e sinergia, davvero ci daranno la loro testimonianza di pellegrini qui a San Giovanni Rotondo. Dunque io ti restituirei subito la linea Paola, così credo che siano quasi arrivati, comunque ci prepariamo e ti chiedo la linea appena possibile. Grazie, a dopo. Grazie a te. A dopo, Leo, a proposito di pellegrini, permettetemi di salutare un'amica che ci ha appena mandato un messaggio dalla Sardegna, lei si chiama Daria, una giovanissima insegnante che ci segue spesso e spesso anche è venuta pellegrina nei luoghi del Santo di Pietrelcina. Daria, ma tanti altri amici, vi aspettiamo presto a San Giovanni Rotondo, così come Giacomo, che spesso ci scrive anche su Facebook, si sta preparando al suo quinto pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. A questo proposito vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica al quale potete scriverci inviandoci le vostre foto ricordo di pellegrinaggi e visite a San Giovanni Rotondo, info-teleradiopadrepio.it, eccolo qui in sovraimpressione, info-teleradiopadrepio.it oppure è pronta anche la nostra grazia a rispondere alle vostre telefonate allo 0882 41 83 80. E cominciamo subito con il Santo del Giorno. Oggi la Chiesa fa memoria di San Paolino di Nola Vescovo, discendente di una ricca famiglia patrizia romana, favorito nella carriera politica, incontrò il Vescovo Ambrogio di Milano e il giovane Agostino di Pona e dei quali fu avviato alla fede cristiana. Ha ricevuto il battesimo verso i 25 anni durante un viaggio in Spagna, conobbe e sposò Terasia e dopo la morte prematura dell'unico figlioletto, Celso, entrambi, marito e moglie, si dedicarono interamente all'ascese cristiana sul modello di vita monacale e orientale. A Nola diede inizio alla costruzione di un santuario, ma si preoccupò anzitutto di erigere un ospizio per i poveri, adattandone il primo piano a Monastero, dove si ritirò con Terasia e alcuni amici. Nel 409 fu eletto Vescovo di Nola, morì a 76 anni nel 431. E allora, dopo il Santo del Giorno, vogliamo spostarci a qualche chilometro da San Giovanni. Chi viene spesso in questi luoghi conosce bene anche un altro posto di grande spiritualità sul Gargano, che è il santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. il 25, il 26 e il 27 giugno, Monte Sant'Angelo Longobarda. Tre giorni di eventi per celebrare, pensate, sono già trascorsi dieci anni, dal riconoscimento UNESCO delle tracce dei Longobardi nel santuario di San Michele Arcangelo nell'ambito del sito seriale Longobardi in Italia. Ci saranno diversi appuntamenti, venerdì 25 una serata evento, sabato 26 notte bianca del patrimonio culturale e sesta edizione della notte romantica nei borghi più belli d'Italia e poi domenica 27 una giornata dedicata alle famiglie con laboratori didattici per i più piccoli e quindi i Longobardi, potremmo dire, formato famiglia. A questo proposito vi vogliamo regalare, sempre tratto dai nostri archivi, una cartolina che arriva direttamente da Monte Sant'Angelo. Grazie alla collega Anna Maria. E siamo qui al tesoro nascosto di Monte Sant'Angelo in compagnia di Lea, guida della Proloco, che ci aiuterà a scoprire questa chiesa dell'incoronata che è davvero nascosta. Sì, è una perla nascosta questa chiesa per la nostra Monte Sant'Angelo. Ci troviamo proprio all'arrivo del cammino chiamato Scanna Mugliera, comunque posta su un percorso che da Manfredonia portava a Monte Sant'Angelo, porta ancora a Monte Sant'Angelo. Quindi un presidio a pochi passi dalla città per i peregrini. Sì, infatti se guardiamo si riesce a scorgere anche la campanile dell'Arcangelo Michele. Questa chiesetta costruita fuori dalle mura proprio perché probabilmente destinata al rifugio a stazione di posta, ad essere stazione di posta per i pellegrini che arrivavano da Siponto. Testimonianza di un cristianesimo che è fondato sul pellegrinaggio, sull'arrivo a Monte Sant'Angelo presso il santuario di San Michele su un percorso fatto fondamentalmente da camminatori. Andiamo, andiamo a vedere. Dicevamo che è utilizzata praticamente una sola volta all'anno. Sì, sì. Anche se nel mese di aprile... Nel mese di aprile il sabato vengono a celebrare messa proprio per prepararsi all'ultimo sabato quando qui è giorno di festa. Interessante è il fatto che una parte della chiesa si è scavata nella roccia. Anche qui abbiamo una grotta. Bisogna immaginarla anche molto più affrescata di come è adesso, molto più ricca. Quindi ci sono rimaste le testimonianze scultore mentre quelle ci sono soltanto degli accenni, delle affresche. Andiamo a scoprire i dettagli che questo tesoro... Notiamo l'altare maggiore che vede la statua della Madonna incoronata al centro, San Matteo e San Vincenzo Ferreri. Un altare barocco che conserva la sua preziosità. È opera di maestranze locali. Perché sono fatte in pietra. Sì. Sono in pietra locale e poi dipinte, no? Quindi anche se la fattura può sembrare un po' datata per i nostri occhi, in realtà sono frutto di una capacità scultoria non indifferente per questi luoghi. E poi ci abbiamo... Il pellicano, è il pellicano che è il simbolo, teologicamente il simbolo dell'eucaristia, che ci richiama proprio al senso poi dell'altare. Sì, e qua tuttuno col barocco, con l'arrivo quindi di una nuova ondata di evangelizzazione. Esattamente. Successiva al concilio di Trento, insomma, qui si scoprono anche le ondate di evangelizzazione. Oh, allora, abbiamo visto gli affreschi. Poi ci sono questi tre altari che ci raccontano e arricchiscono ancora di più la storia di questo luogo. Sì, questi tre altari che si trovano nella penombra, ma sono tre gioielli che vanno ad impreziosire ancora di più questa chiesa. Abbiamo l'altare di San Leonardo. Eccolo, che ha dato l'origine. Il primo. Il primo. San Leonardo ci collega in qualche modo ai francesi, agli angioini, perché poi tra l'altro abbiamo altre chiese dedicate a San Leonardo, proprio sul cammino verso Monte Sant'Angelo. Sì. Mentre... La Madonna delle Grazie. Altra padrone di casa. Esattamente. Molto importante. E qui abbiamo, posso dire più... San Giacomo, Maggio. Oh, San Giacomo. Siamo in un luogo, in un cammino, in un pellegrinaggio. Non poteva mancare San Giacomo. Pellegrini verso la Terra Santa, verso San Giacomo di Compostela, pellegrini anche verso Monte Sant'Angelo. Esatto. Questo ci collega a tutti i cammini d'Europa. È forse quello che maggiormente descrive la magia di questo posto. Sì. Ha un valore penitenziale questo luogo, prima di entrare, prima di avvicinarsi al tempio, al santuario. Attualmente voi turisti non li portate qui, quelli che arrivano su gomma? No, no, assolutamente no. Io da quando faccio la guida turistica, sono quasi dieci anni, non ricordo di aver mai portato nessun gruppo qui in visita. Lea, forse è giusto così, forse è giusto che questo sia un luogo aperto soltanto per chi arriva a piedi, che dici? Sì, è giusto, ma bisognerebbe comunque valorizzarlo e pensare a valorizzarlo per quella nuova categoria di pellegrini, i camminatori. I cammini a piedi, i pellegrinaggi a piedi, mancano anche quelli. Naturalmente queste cartoline che state vedendo sono state realizzate prima dell'emergenza coronavirus e quindi è bene anche ricordarlo. E allora, parliamo di libri, il nostro consiglio di lettura di quest'oggi ci porta a conoscere un percorso psico-spirituale firmato da Valerio Albisetti, psicologo, scrittore e psicoterapeuta, che ritorna sempre grazie alle paoline con una versione, una nuova edizione aggiornata e ampliata di uno dei suoi best-seller che si intitola appunto Fare Centro, recita il titolo del libro, la metafora della freccia che viene scoccata nella giusta direzione e raggiunge l'obiettivo vuole indicare il nostro cammino verso la maturità. Tutti siamo chiamati a realizzare uno scopo, ma per raggiungerlo occorre porsi in una dinamica di crescita progressiva, integrando in modo armonioso gli aspetti umani, psicologici e spirituali della nostra persona. Questo libro edito dalle Paoline è firmato da Valerio Albisetti ed è il nostro consiglio di lettura di oggi. E allora, abbiamo una sorpresa per voi, perché andando a cercare, ricercare negli archivi di Padre Pio TV, abbiamo trovato una puntata che risale al 2010, se la memoria non mi inganna, con un padre marciano entusiasta e come sempre molto molto felice e gioioso, perché in quell'occasione venne a trovarci nei nostri studi un gruppo di preghiera. Allora ascoltiamo proprio questa conversazione. Pochi minuti tra padre marciano e componenti di questo gruppo. Sono lieta di averla incontrato di nuovo. Volevo chiederle come sono nati i gruppi di preghiera e perché sono nati. Ecco sì, una domanda di fondo. Introduttiva. Introduttiva. Allora, altro devo aggiungere o io ho completato? Aggiungo semplicemente che sono felicissima di far parte di un gruppo di preghiera, di essere figlia spirituale di Padre Pio, per me è un grande onore e spero che lo sia per sempre. E che il Signore dica Amen. Amen. Metta la firma a questo suo desiderio. Come si chiama la signora? Non abbiamo letto il suo nome. Angelina Giammaria. Angelina. Bene. Allora, padre marciano, a te la risposta. La risposta. Quindi come sono nati i gruppi di preghiera? I gruppi di preghiera sono nati da un forte desiderio di Padre Pio di salvare le anime. E quando ci si immette in questa realtà fortemente spirituale, ci si sente deboli, poveri, incapaci. E quindi allora la necessità di unire altre persone, quindi insieme fare pressione sul cuore di Dio. De resta anche Gesù nel Vangelo che cosa dice? Dove due o più sono unite nel mio nome, io sono in mezzo ad essi. L'occasione è stata duplice. Una a Monde, dopo di pochi anni, proprio due o tre anni che Padre Pio stava qui a San Giovanni Rotondo, quando qui non esisteva nulla se non un convento romitaggio. e il Padre Superiore diede a Padre Pio l'incarico di tenere la conferenza, si chiamava così, si diceva, che poi era una catechese, la conferenza al terzo ordine francescano. Quindi dal paese venivano quelle poche persone, una decina di persone, 15-20 persone, quasi una volta alla settimana. E Padre Pio si riuniva in una stanzetta, la foresteria, e lì teneva la sua conferenza. e l'estate si mettevano intorno al tavolo, e l'inverno c'era, fino a poche tempo fa, il cammino in questa foresteria. Accentevano il fuoco, si mettevano intorno al fuoco, e Padre Pio in mezzo ad essi, ecco, faceva la conferenza. In che cosa consisteva? Questo è che è importante. Padre Pio, quindi, 1922-1923, a seguire, sviluppava l'idea di un confronto con la Sagra Scrittura. Questo è molto importante, perché poi Padre Pio ci ritorna con degli scritti nel 1914. La Chiesa fa sua questa idea di Padre Pio col Concilio Vaticano II, quindi sono passati tanti anni. Quindi, prima tempo, Padre Pio già con i suoi figli spirituali che vivevano con lui, quindi dicevano il rosario, poi Padre Pio spiegava le pistole, le lettere di San Paolo, un po' il Vancello, e poi faceva la Catechesi, usando il testo dello Scaramelli, del Padre Gesuita, dello Scaramelli che a quell'epoca andava in buco. Questo è un primo elemento. Secondo elemento, la guerra, la seconda guerra mondiale, il Papa chiama tutti a raccolta per pregare. Non è che prima non si pregasse, si pregava, ma dice, uniamoci, preghiamo insieme, gruppi di preghiera, per fare forza sul cuore del Signore. Ecco, allora, i due momenti che sono stati fondamentali fondamentali perché Padre Pio lanciasse poi i gruppi di preghiera. Al messaggio di Pio XII, Padre Pio risponde, noi dobbiamo essere i primi a rispondere all'appello del Papa. E quindi di qui nascono i gruppi di preghiera. Questo era il 2010, Padre Marciano ci manchi, è inutile anche sottolinearlo questo. E allora, ma continuerà, come dire, a vivere in questi stralci che ogni tanto manderemo in onda, sperando insomma che siano apprezzati da chi ci sta seguendo. E allora, rimanete con noi, facciamo 30 secondi, giusto 30 secondi di pausa, perché è pronto per noi Leonardo Fania con un gruppo, quindi ascolteremo le loro testimonianze dal vivo, in diretta dalla Chiesa di San Pio. Grazie, grazie Paola. E dunque, come promesso, abbiamo qui con noi un gruppo della Diocesi di Vicenza, capitanato dal parroco Don Emanuele Cuccarollo, che è un abituè qui a San Giovanni Rotondo, chiacchierando fuori di telecamera. Ecco, stavamo un po' ricollocando i ricordi. Ma prima di lasciare a lui la parola e al suo gruppo, qui con me, alla mia sinistra, Mariana Lops, dell'ufficio Accoglienza Pelegrinaggi, del nostro santuario, che voglio invitare, ecco, anche ad intervenire, invitando i gruppi stessi a registrarsi qualora dovessero arrivare qui a San Giovanni Rotondo, perché di queste occasioni ce ne saranno sempre di più in futuro. Certo, Leonardo. Io invito tutti i gruppi che si recano qui a San Giovanni Rotondo a contattare preventivamente l'ufficio Pellegrinaggi allo 0882 417 500, oppure via email infochiocciolasantuariopadrepio.it. Ovviamente, come Don Emanuele ha fatto, contattandoci potrete quindi fruire della visita guidata, prenotare la celebrazione e notiamo, Leo, anche una lenta ripresa dei gruppi stranieri che si recano qui in questi luoghi di San Pio e quindi nei prossimi giorni ci saranno dei gruppi spagnoli, polacchi, croati, quindi pian pianino stiamo riprendendo quello che era poi il percorso dei pellegrini anche negli anni passati. Sì, in effetti stamattina arrivando qui sentivo parlare in inglese, presumo fossero delle Filippine, dei gruppi però non registrati, come dicevamo anche prima, quindi è un peccato perché è anche statisticamente importante conoscere le provenienze dei vari gruppi. Ma torniamo ai gruppi di casa nostra, facciamo un po' di pubblicità alla nostra Italia con questo gruppo della Diocesi di Vicenza che davvero saluto e ringrazio per la vostra disponibilità, Don Emanuele. Grazie, noi siamo venuti in 36, il pellegrinaggio è organizzato dalla Fondazione Homo Viator che serve ai pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza ma abbiamo persone anche da Padova, da Verona, quindi tutto il territorio del Veneto diciamo intorno a Vicenza. Siamo partiti ieri, ci siamo fermati a Loreto e poi da ieri sera soggiorniamo fino a domani a San Giovanni Rotondo. Sì, dicevo prima che voi qui siete degli abituè, lo hai ribadito anche tu, ti do del tu, visto che ormai siete di famiglia qui a San Giovanni Rotondo e mi verrebbe da chiederti quali sono le emozioni nel ritornare in questo luogo dopo tutto quello che abbiamo passato e che stiamo passando ancora? Allora c'è un senso di liberazione dopo tanti mesi di restrizioni e poi soprattutto c'è la sensazione di ritrovare un padre dopo che ci siamo sentiti orfani per molto tempo perché è stato un periodo davvero duro per tutti e veramente c'è bisogno di tornare all'essenziale, sentire che siamo amati e che siamo anche protetti e guidati nella vita e Padre Pio ti offre questa esperienza. Vorrei chiederti Don Emanuele, com'è stato questo anno anche per le comunità a te affidate? È stato un anno molto duro per le famiglie, per i bambini soprattutto, gli anziani, gli ammalati, ancora più soli di prima, per le famiglie che hanno perso i loro cari con dei funerali che sono stati terribili, anche io nella mia parrocchia ho dovuto celebrarne alcuni in fretta e in furia nei cimiteri, ecco una cosa indescrivibile, però io ho visto anche un cambiamento in positivo nella gente, cioè questa aratura, come la chiamo io, predispone il terreno a un buon seme, c'è più essenzialità, c'è più voglia di andare in profondità e anche di spiritualità, c'è voglia di pregare, di tornare al Vangelo. E Padre Pio credo che da questo punto di vista sia un maestro? Sì, lo è, lo vedevamo ieri proprio, Padre Pio ci è stato donato dal cielo, in questo tempo in cui appunto ci siamo smarriti troppo nelle cose materiali, Dio ha voluto darci in Lui molti segni del cielo, ecco che il cielo c'è, che il cielo interviene, che il cielo c'è vicino e che ha un volto umano, il volto di un padre e di un fratello, quale appunto Padre Pio. Allora, visto che siamo rigorosamente in diretta e stiamo, tra virgolette, improvvisando il tutto, ecco, vorrei, alla mia sinistra ho anche una coppia di sposi, non volevano intervenire, io li faccio, di futuri sposi, non volevano intervenire, io li faccio intervenire. Se venite qui magari, ecco, un po' più vicino, grazie Luigi, così ci aiuti anche con la telecamera, vi ho fatto uno scherzo, perdonatemi. Qual è l'emozione di essere qui a San Giovanni Rotondo, ecco, anche a poche settimane da questo grande passo? Partiamo da... Ciao, una grande... sì, sono florentina, io vengo dalla Romania, però questa è la terza volta che vengo in pellegrinaggio organizzato da Don Emanuele. Vengo anche a ringraziare Padre Pio e far conoscere e ringraziare Andrea, perché è il mio futuro sposo, quindi che mi ha donato tante grazie, tanti doni, Padre Pio. Qui mi carico e ci dà tanta forza. Io è la prima volta che vengo qua con Don Emanuele, sono qua anche per ringraziare sicuramente Padre Pio che ha aiutato, ci ha aiutato e ci sta aiutando e lo invochiamo come guida e come protettore nostro, insomma, per la nostra esperienza di vita insieme, insieme a Gesù. E quindi ringrazio anche Don Emanuele. Vi ringrazio io per, scusatemi se in maniera del tutto inaspettata vi ho chiamato a intervenire in diretta, però ci piace insomma anche sentire le emozioni a caldo dei nostri carissimi pellegrini. Don Emanuele, per riflettere anche sull'esperienza dei nostri amici, ecco, sono tanti i giovani e lo registriamo anche grazie all'aiuto dell'ufficio Accoglienza Pellegrini che scelgono di sposarsi qui a San Giovanni Rotondo, ma più in generale di affidarsi a Padre Pio per l'inizio della loro esperienza di vita comune. Padre Pio sicuramente rappresenta anche per le coppie un punto di riferimento importantissimo, proprio perché lui per primo ha dato l'esempio di sapersi far carico degli altri e ha avuto tanti figli spirituali, quindi ci dà questa dimensione spirituale della paternità e anche della maternità, perché Padre Pio sapeva essere anche madre con la sua tenerezza. Quindi diventa davvero un punto focale di riferimento per le coppie di oggi che possono vedere in lui un esempio di paternità e maternità spirituale. Anche gli sposi devono avere questa caratteristica oggi, perché non basta mettere al mondo dei figli, bisogna crescerli anche nella grazia. E Padre Pio ci aiuta in questo, c'è bisogno proprio di questo aiuto oggi, perché non siamo esperti di grazia e Padre Pio comunica questa grazia. C'è anche la mamma di Don Emanuele. Prego signora, grazie. Stiamo davvero in compagnia di amici, con molta naturalezza. Signora, mi piacerebbe chiedere la sua esperienza con Padre Pio, visto che anche ha un figlio sacerdote. Ognuno fa il proprio percorso, per cui io dico il primo pellegrinaggio che faccio qui. Quindi venivo comunque spesso, perché per una decina d'anni venivamo in vacanza a Foce Varano, per cui partivamo da Vicenza la sera, viaggiavamo di notte, venivamo alla prima messa qui, mangiavamo un cappuccino e una brioche, e poi si scendeva al mare. boh, diremmo che Camin facendolo conosciuto, era più un giro così, di routine, proprio perché lui è molto devoto, altrimenti non credo che sarebbe andata così. Comunque sono molto contenta e grata per questo momento, di fare un pellegrinaggio. Grazie. Mariana, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. La signora, che è la più, la veterana del gruppo, è venuta tante volte da Padre Pio. È un'ascoltatrice di teleradio. Un giorno lo guardo, Padre Pio, perché mi piace tanto. E anche sono iniziato 6 e 7 volte. Due anni fa sono iniziato con mia figlia stesso, e sto anno sono iniziato un'altra volta, perché quando mia figlia mi ha detto che chi va da Padre Pio, notte mi ha detto che fino a che posso, vengo, vago. Siamo Sor Beatrice. E gli anni, i tanti, e ora... L'accento Veneto è meraviglioso. È dietro, è dietro. Con le mascherine. Sor Beatrice, prego, vuole intervenire. Sì, beh, è la prima volta che vengo, ma sono veramente grata a chi mi ha invitato, perché ho deciso proprio all'ultimo momento. Però ho capito qui la grande paternità di Padre Pio, ma anche l'immensa grandezza del protagonismo, che è un santo, che si diffonde, che chiama, che invita, e dona tanta pace, tanta armonia, anche direi, proprio attraverso anche le costruzioni, che qui sono ben evidenziate, ben costruite, insomma, ben fatte. Allora, visto che sono le undici e un quarto e mancano pochi minuti alla celebrazione eucaristica, io libererei questo gruppo, così vi permetto anche di prepararvi in maniera più serena alla Santa Messa che celebreremo tra poco. Non so, Paola, se hai domande da studio, altrimenti ti restituisco la linea. No, no, volevo solamente chiedere come è organizzato il loro pellegrinaggio, però come... Io però non sento, Paola. Hai ben detto... Hai ben detto, Leonardo, non ti preoccupare, lasciamo andare il gruppo a prepararsi per la celebrazione. Non la sento, Paola. Come è organizzato? Come è organizzato il pellegrinaggio? Sì, il pellegrinaggio è un po' a uno schema che si ripete ogni anno, noi lo facciamo anche più volte all'anno, per riuscire a stare dentro i tre giorni, perché chiaramente poi ci sono delle spese, oggi come oggi bisogna stare attenti anche a questo. Noi partiamo molto presto da Vicenza, alle 10 siamo all'oretto, facciamo la messa, poi arriviamo in serata a San Giovanni Rotondo, partecipiamo al Rosario della Sera e la mattina dopo facciamo la visita ai luoghi di Padre Pio, visita guidata, tra l'altro magistralmente, mirabilmente, specialmente a me piace molto che si faccia la visita dei mosaici di Rubnik, perché sono una catechesi che introduce alla profondità dell'esperienza di Padre Pio, la sua spiritualità in maniera straordinaria, mettendolo a confronto chiaramente con la luce di Cristo e con il riferimento, il carisma di San Francesco. Poi nel pomeriggio si sale, saliamo a San Michele, a Monte Sant'Angelo, facciamo la consacrazione a San Michele con la Santa Messa, la sera torniamo qui e partecipiamo ancora a Rosario, per poi partire il giorno dopo con la Messa, molto presto, la prima Messa del mattino, domani mattina a 6 e mezza parteciperemo a Santa Maria delle Grazie, e si torna al nord, fermandosi a Manopello. Ecco, la conclusione è il volto santo di Gesù, perché Padre Pio ci porta a Gesù. Ecco, Padre Pio non è autocentrato, lui è vissuto sulla terra, ma tuttora nella comunione dei Santi continua la sua missione di portarci a Gesù. E allora, Don Emanuele, io vi ringrazio davvero per la disponibilità. Purtroppo non sento Paola dallo studio, quindi non vorrei abusare della provvidenza e quindi evitare anche di fare figuracce con la diretta. Quindi vi lascio alla preparazione della celebrazione eucaristica e davvero vi do il ben ritrosi. Vorrei salutare il direttore dell'ufficio pellegrinaggi della Diocese di Vicenza, Don Raimondo Sinibaldi, che oggi compie 60 anni, quindi gli facciamo un regalo salutandolo, facendoli tanti auguri. Penso che questo sia un bel regalo per lui, perché anche per noi i pellegrinaggi ci sono cominciati adesso, da poco, quindi speriamo, auspichiamo che... E lo aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo. Allora, magari con il prossimo gruppo, magari sempre al solito posto. Grazie di cuore, grazie, grazie. A te studio. Bene, bene, che meraviglia tornare ad ascoltare le parole dei pellegrini che sono tornati, stanno ritornando a San Giovanni Rotondo. Mi è piaciuto molto il fatto che sia stata sottolineata proprio la paternità spirituale del Santo di Pietrelcina. Allora, a proposito di paternità, siamo andati a riprendere sempre dai nostri archivi una testimonianza di un frate che ha avuto la grazia di vivere accanto a Padre Pio per qualche anno e lui è fra Eusebio Notte, è venuto a mancare qualche tempo fa, però grazie ai suoi scritti, grazie alle testimonianze, alle telecamere che sono riuscite ad acchiappare queste sue testimonianze, e possiamo condividere con voi quello che riguarda lo stretto legame che lo unisce al Santo di Pietrelcina. Stavo a San Giovanni Rotondo accanto a Padre Pio e avevo il desiderio di vederle queste piangere e stando nella sua camera, quella aperta al pubblico, un giorno gli dicevi Padre mi fa vedere le sue piangere e anche tu mi mortifichi, scoppio a piangere e mi fece una tenerezza infinita, dice Padre no, 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 non le voglio vedere, non le voglio vedere più, eppure le stime te le ho viste centinaia di volte, perché accompagnavo Padre Pio per la celebrazione della messa, doveva togliersi i guandi durante la messa, i guandi li dava a me, io tornavo per fatti miei, ma specialmente le prime volte mi sono fermato o ad assistere alla messa, a partecipare alla messa, ma specialmente per guardare queste stime te di Padre Pio, e si vedevano in un moro veraviglioso, tutte e due, la mattina quasi sempre le puliva, toglieva le eschere intorno e quando erano pulite si vedeva addirittura il foro, diversamente si vedeva una macchia di sangue, perché il sangue a contatto dell'aria si coagula e diventava una macchia, ma una cosa, le altre piaghe fanno ribrezzo, le piaghe di Padre Pio non solo non facevano ribrezzo, ma ti ingantavano, volevi vedere, volevi vedere, e tanta gente, o la maggior parte della gente che veniva a San Giovanni Rotondo, perché veniva la notte e si metteva davanti alla porta per prendere i primi posti, la messa valeva anche se rimaneva in fondo alla chiesa? No, volevano vedere Padre Pio, che diceva la messa, le stimmate di Padre Pio, da quelle stimmate tante volte l'ho vista anch'io, uscivano dei riboli di sangue che cadevano sull'altare dove Padre Pio diceva la messa. Ricordo perfettamente quando abbiamo realizzato questa intervista, era il giorno stesso, il giorno prima dell'esumazione di Padre Pio, quindi parliamo del 2008. Grazie davvero a Fra Eusebio, perché sono davvero testimonianze importantissime queste, soprattutto per chi, come noi, non ha avuto la grazia di conoscere il Santo di Pietrecina, se non attraverso questi ricordi. Allora, 30 secondi e torniamo a fermarci questa volta per una pausa un po' più lunga, ma rimanete con noi perché vi ricordo alle 11.30 ci sarà la Santa Messa in diretta dalla Chiesa di San Pio, dobbiamo ancora aprire l'album dei ricordi, oggi ci sono diverse foto che vogliamo mostrarvi e condividere insieme a voi, ricordandovi appunto che potete anche inviare la vostra foto ricordo del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, inviandola a infochiocciola a teleradio padrepio.it. Detto questo, ci fermiamo, una pausa un po' più lunga, ma state con noi perché Tempo d'Estate torna subito dopo. 11.27 in questo istante, prima di collegarci con la Chiesa di San Pio per partecipare insieme alla Santa Messa, vogliamo sfogliare un po' insieme l'album dei pellegrini, è arrivata una foto molto bella di Andrea, ci ha scritto la sua mamma, loro abitano in provincia di Modena, precisamente a Palagano, e la mamma di Andrea ci racconta che sono molto devoti di padrepio, sono stati qui in pellegrinaggio ben quattro volte, la foto è stata scattata quest'ultima nell'ottobre del 2020, sono venuti a San Giovanni Rotondo per ringraziare padrepio che li ha protetti durante la pandemia, scrive proprio lei di non essere stati contagiati da questo virus. Sono stati appunto più volte a San Giovanni Rotondo, hanno anche conosciuto Fran Modestino, Daniela racconta che tutte le mattine ascoltano la Santa Messa, hanno seguito la televisione durante i mesi di pandemia, oggi Andrea ha 38 anni, non cammina, non parla e si esprime con gli occhi quando è felice, ci racconta anche che hanno comprato un camper attrezzato, stanno girando, hanno girato l'Europa, adesso stanno girando l'Italia, in questo momento sono in Liguria, Andrea è un ragazzo fortunato, ha vicino persone che gli vogliono bene, torneremo da lui, torneremo da padrepio per continuare a ringraziarlo, siamo una famiglia fortunata nonostante le varie fatiche giornaliere, grazie di cuore, grazie a te Daniela, grazie ad Andrea, a tutta la vostra famiglia per questa bella testimonianza, eccolo qua Andrea, ti abbracciamo e ti aspettiamo presto a San Giovanni Rotondo. E sempre continuando ad aprire l'album dei ricordi, appena abbiamo il collegamento con Leonardo me lo dite e torniamo a collegarci con lui, vogliamo vedere un'altra foto, questa un po' più antica, risale al 1963 degli sposi Ugo Guglielmini e Luciana Segato di Padova che ricordano il loro matrimonio celebrato da padrepio era il 16 novembre del 1963, ecco in fondo gli sposi e padrepio in primo piano. E sempre dall'album dei ricordi, grazie all'archivio fotografico di voce di padrepio, la foto di gruppo che arriva da Molteno, era il 1985, ci sono anche un frate, un sacerdote, un bel gruppo, c'è anche qualche suora scattata davanti alla via Crucis di San Giovanni Rotondo, alle spalle la stato in bronzo nel Santo di Pietrelcina. di San Giovanni Rotondo, di San Giovanni Rotondo,